ciao a tutti ragazzi io sono gabio e oggi vi mostrerò come fare dei video con la xbox come poter registrare i propri gameplay con questa applicazione ecco prima cosa che ci dovete spegnere il controller della xbox che sta di là lo dovete spegnere cioè perché io ho due quello che sta di là ha le pile questo che sta qua che è senza pile è ok ok mo praticamente ovviamente ok che mo che dovete fare questo accesso a xbox live ok questo è questo è il mio profilo c'è poi qua c'è su connessione che qua c'è su connessione dove c'è vedi qua qua andiamo qua ok accertatevi che il computer se avete un computer non credo che ci abbia dovuto proprio che il computer sia connesso a internet perché se non avete internet non potete fare un gas mo adesso facete riproduci streaming connessione xbox one ok ok che io prima c'è che stavo su youtube di là praticamente collegati via usb perché ovviamente che c'è ovviamente lo collegate dalla parte giusta però vabbè c'è ok ok c'è ok che cosa ho fatto c'ho praticamente la xbox c'è sul computer è praticamente sì sì ok c'è no c'è sto c'è a apro aprendo gta 4 c'è praticamente se avete un c'è un programma per registrare i video c'è io che c'è che vi consiglio questo guardate compagno c'è mi chiego ma questo programma per post praticamente se avete questo programma se voi potete come qualunque programma per registrare che ce ne sono gratuiti, oh quanto non sto, ok andate su registratore gratuito, un attimo cancella, c'è questa fregiatura che c'è che praticamente se fate schermo intero questo ve lo toglie, però sti cazzi cioè voi praticamente potete giocare, possiamo giocare vero? si è leggermente bloccato, però dai un attimo connessione con console connessione interrotta c'è sì comunque c'è ci tolgo, no no, io tolgo un cazzo, c'è perché comunque c'è può essere utile c'è ok comunque c'è se vi è stato utile e connessione su xbox one, ok se io ci voglio questo coso così perché io devo registrare con questo programma, io appunto c'è che questo che non è un problema della xbox, questo è tutto problema di internet, quindi c'è praticamente c'è che io sto in camera mia perché devo stare tranquillo ok, c'è perché ti lascono le persone, ok, c'è questo è tutto problema di internet, c'è ma c'è quel c'è questo è tutto problema di internet, c'è questo va di merda perché è problema di internet che è una merda, c'è quindi c'è cioè ci mettiamo a quella parte praticamente è più semplice, è più probabile che il gioco, cioè che questo gioco ci vada più fluido, vedi? vedi va di merda perché praticamente, o perché sta aperto questo eh, ma provo a toglielo però se è questo problemi di qualità di rete, vedi? porca puttana veramente, puttana troia veramente, che due palle, ho io ho un internet di merda, quindi c'è c'è quindi per registrare che faccio, che ci metto a quella parte, quindi ok, se vi è stato utile questo, c'è chiamiamolo tu come se non me ne frega un cazzo, tu a prescindere ti connetti che io mi devo giocare meh, meh, c'è ok, quindi se vi è stato utile c'è un bel like, c'è un bel like per la qualità di video che si ha si alzerà, se ovviamente me lo permette internet, c'è perché tutto, c'è perché tutto dipende, c'è da internet c'è praticamente, c'è sempre stato utile condividetelo con altre persone, c'è iscrivetevi se me l'avete già fatto, un bel like, un dove cazzo da andare, c'è un bel like per la qualità di video che si alzerà, se ovviamente me lo permette internet perché tutto non dipende da me, dipende da internet, c'è, c'è, se ovviamente, c'è, se non mi fa andare il gioco a scatti, io non registro un cazzo, preferisco buttarla, preferisco non fare un cazzo, non registro un cazzo, però che io intanto il video pubblico, questi grazie, se vi è stato utile, buono, se no, grazie, commentate quello che volete, iscrivetevi e ciao Grazie